Ciao a tutti, io sono Inna, benvenuti al mio canale. Oggi vi faccio vedere cosa mangio in una giornata in cui ho lezioni all'università. Come vedete inizio la mia giornata con un bel bicchiere d'acqua e poi bevo un caffè per svegliarmi. Ultimamente mi piace mangiare i fiocchi d'avena per colazione, li preparo in modi diversi. Se volete vedere come li preparo vi lascio il link nella descrizione qua sotto. Per quanto riguarda il pranzo, come vedete mi sono preparata delle penne integrali, le ho condite con del semplice passato di pomodoro. Tutto questo lo metto in una scatola e lo porto a lezione con me. Subito dopo il pranzo mi piace stuzzicare e quest'oggi mi sono portata dietro dei peperoni crudi. Una volta tornata a casa si sono fatte più o meno le 4-5 del pomeriggio. Mi piace mangiare uno spuntino bello nutriente. In questo caso ho deciso di optare per un avocado, che appunto è molto nutriente essendo molto grasso e so che mi terrà sazia fino a cena. Mi piace abbinare l'avocado al pane, infatti come potete vedere nel video l'ho tagliato grossolanamente e lo sto rimuovendo dalla buccia. Successivamente lo spalmo sul pane e mi piace aggiungerci del pepe, della curcuma e del semplice sale. In questo modo ottengo uno spuntino delizioso nutriente e che so che mi terrà sazia appunto fino alla cena. Mi piace aggiungere la curcuma, in particolare per le sue proprietà, infatti fa molto bene all'organismo e la aggiungo quando posso. Dopo che avevo voglia di qualcosa di dolce ho deciso di prepararmi una cioccolata istantanea e l'ho abbinata a questi biscotti integrali al cioccolato. Per cena invece ho mangiato il borscht, una zuppa tradizionale ucraina preparata con verdure e fagioli, quindi molto nutriente. Prima di dormire mi piace sempre bere una bella camomila calda per rilassare il mio corpo. Vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto. Se sì, mettete su un bel like e iscrivetevi al canale. Alla prossima!